Buongiorno, benvenuti a questa Resegna Stampa di oggi, venerdì 9 novembre. Devo dire che veramente tu leggi i giornali italiani, vedi le cronache di questo governo e pensi, per fortuna che ci sono il PD e Forza Italia, perché, no, per fortuna nel senso che se vedi loro, dici, questo governo dovrà durare i prossimi 50 anni, nel senso che l'incapacità di fare opposizione, di avere, non lo so, alla fine vedi all'eleopolda di Renzi e dici, vabbè, forse è quasi meglio, non esageriamo, forse è quasi meglio questo governo, non esageriamo, insomma, l'ho messa male, soltanto perché questa mattina mi sono svegliato di buon umore. Il punto fondamentale è che il governo oggi avrebbe raggiunto un compromesso sulla prescrizione. Allora, la domanda che io faccio a tutti quanti voi è la seguente, se un governo scrive una norma che fa schifo, che fa orrore, non che sia anticostituzionale, perché a me le costituzioni anticostituzionali mi riguardano relativamente, la Costituzione è una legge fatta dagli uomini, gli uomini possono ovviamente cambiarla, emendarla, non sono uno di quei retori che pensa che la Costituzione sia intoccabile. Bene, se una norma fa schifo, è orribile, è immorale, come quella di dire prescrizione mai, ed è antiliberale, il fatto che sia scritta in una legge ma che sia prorogata al 2020 vi rende un po' più sicuri? A me no, non mi rende più sicuro perché dà il senso e il tono di come questo governo pensa di comportarsi in materia di giustizia. Good morning Vietnam, dice Roberta. Beh, devo dire che oggi quello del governo sulla prescrizione è un Vietnam perché la legge sulla prescrizione, cioè ve lo ricordo, la prescrizione oggi ha 7, 15, 20 anni, dipende dai reati che si commettono. Il Movimento 5 Stelle, attraverso buona fede, nel cosiddetto decreto spazzacorrocchi, e già i nomi pesano in un paese che dovrebbe essere la patria non del latino ma comunque della bella scrittura e della bella lettura, ma questo aveva iniziato dei slide di Renzi, ve li ricordate, quelli col pesciolino rosso, chi di slide ferisce poi muore di slide ovviamente. Beh, insomma, hanno deciso di mettere questa prescrizione dopo la sentenza di primo grado, quindi se a me mi accusa qualcuno, lo Stato, di aver fatto qualcosa di sbagliato e quindi io sono assolto in primo grado, addirittura assolto, quel reato non si prescrive mai, cioè possono continuare all'infinito a giudicarmi. Secondo voi questa è una norma normale? Ma anche se io fossi condannato dopo 15 anni, 20 anni per un reato che ha un anno, 6 mesi, due anni massimo di sua, cioè sono sempre sotto processo che è esattamente quello che vogliono Travaglio, che vogliono Davigo, quello che vogliono Di Matteo, cioè gente che vorrebbe tenere tutto il mondo sotto processo tranne loro stessi, perché quando loro stessi vengono giudicati ovviamente nel loro caso la prescrizione ha valore e ne godono. Quindi questa prescrizione viene messa in un emendamento, ma il suo effetto non sarà immediato, ma sarà relativo al 2020. Come scrive oggi Nordio, ma anche come ha detto Davigo, e anzi Nordio sfotte Davigo perché dice inciampato in una verità, questa norma siccome entrerà in vigore nel 2020 e i processi meno di 5 anni non ci mettono per il primo grado, sostanzialmente avrà effetto di fatto questa mancanza di prescrizione, probabilmente nel 2020-2025 quando manca la prescrizione ordinaria oggi prevista e arriverà la mai prescrizione prevista dalla nuova normativa. Ma rispetto a tutta questa vicenda sulla prescrizione, l'unica cosa che è interessante oggi è la polemica ridicola di Massimo Fini con Mattia Feltri, che fa finta di ridicolizzare Massimo Fini e Mattia Feltri, anzi lo prende in giro in maniera squallida dicendo che Feltri siccome non è laureato, mentre lui è laureato in giurisprudenza, pensate un po' voi il criterio, cioè il fatto, il giornale degli incompetenti che vuole il partito degli incompetenti, perché questo è il concetto del Movimento 5 Stelle, il problema non è la loro competenza, ma il fatto che siano nuovi, onestà, 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 ha il suo cazzo di giornalista che si permette di sfottere Mattia Feltri che parla di giustizia perché non è laureato e dice io sono laureato e Bonafede fa parte di uno studio importantissimo e avviato di Pisa, tra l'altro anche un dottore in ricerca di giurisprudenza, quindi non possiamo discutere quello che dice Bonafede, secondo quel genio, genio malato di Massimo Fini. Allora, il genio malato di Massimo Fini invece di prendersela con Mattia Feltri, che peraltro oggi fa un pezzo stupendo, il Feltrino di oggi sulla stampa, il giornale che io peraltro leggo sempre più annoiato, ma la cosa che mi diverte è Mattia Feltri sulla stampa, Mattia Feltri in un Feltrino di oggi dice tutte le cose per le quali dovrebbero essere espulsi dal Movimento 5 Stelle e anche Di Maio, anche i suoi capi, perché se non si doveva fare la TAV loro la fanno, se non si doveva fare la TAP loro la fanno, se non si doveva fare l'ILVA loro la fanno, se non si doveva fare l'alleanza con la Lega loro la fanno, se non si doveva fare i condoni loro li fanno. Racconta tutte le premesse che Grillo diceva, se le fate vi espelliamo e adesso gli unici a espellere sono i 5 che non vogliono votare il decreto di sicurezza, dicessete ridicoli. Ma ritornando alla prescrizione e a Fini che attacca Mattia Feltri perché non sarebbe laureato Mattia Feltri, ovviamente come me, contrarissima a questa prescrizione, beh insomma, vedo oggi, basta leggere il procuratore, il presidente della Corte di Appello di Milano. Il presidente della Corte di Appello di Milano, caro Massimo Fini, forse ne sa qualcosa più di te, o tu sei un fenomeno, non sei più del presidente della Corte di Appello di Milano, cioè l'ultimo giudizio, non lo so, io non voglio permettermi, io sono laureato in economia, quindi forse ho il diritto di parlare con te, i laureati laureati possono parlare o con te possono parlare soltanto i laureati in giurisprudenza, Massimo Fini. Allora Massimo Fini, siccome io sono laureato in economia e non capisco niente, leggo cosa dice il presidente della Corte di Appello, dice che questa prescrizione dopo il primo grado è una minchiata. E sai perché Massimo Fini e tanti giustizialisti dei miei stivali è una minchiata? Per il semplice motivo che il 70% dei processi a Milano vengono prescritti prima del primo grado, chiaro? Hai capito Massimo Fini? Non so se ti è entrata, nel tuo cervello è entrata questa informazione di base oggi sul tempo, il presidente della Corte di Appello di Milano spiega perché è assurdo mettere la prescrizione dopo il primo grado, perché il 70% dei processi a Milano viene prescritta nelle fasi di indagini perché già in quelle fasi non riusciamo a rispettare i tempi della giustizia ragionevole, come prevede, ricorda oggi Martelli sul quotidiano nazionale. Ma l'altra cosa straordinaria che dice il capo della Corte di Appello di Milano, l'altro 30% che non viene prescritto, chiaro, il 70% viene prescritto in, l'altro 30% dice che non si prescrive niente a Milano, a Milano che è un tribunale che funziona, che ha i suoi problemi, gli mancano i cancellieri, non riesce a pagare, ma Greco e la sua procura e la procura della Corte di Appello non prescrivono praticamente nulla. A Milano che è un tribunale che funziona, non si prescrive nulla. Allora, io mi preoccuperei del fatto che si prescrivano le cose in Sicilia dove vanno a cercare la Stato mafia, caro Massimo Fini, e le vostre care vicende politiche che interessano molto, in cui si prescrivono reati che fanno un dolore alla società per il semplice motivo che ci stiamo lì a fare le pippe sullo Stato mafia, chiaro? Questo è il grande tema, il grande tema, mentre invece il problema è la laurea di Mattia Feltri, che lo trovo di uno squallore quello che ha scritto Massimo Fini, pare soltanto a questa sua allure che gli è rimasta da un passato felice. Sorgi fa un'analisi per sottrazione sulla stampa, dice che se questa norma soddisfa la Buongiorno, che oggi fa un'intervista di fatti che si dice che è piuttosto soddisfatta sul Corriere della Sera, allora è una norma che non verrà mai applicata perché Salvini e la Buongiorno questa norma l'hanno detestata sin dal primo momento. Cerasa oggi sul foglio però fa un'analisi sulla grillizzazione della Lega, posto che io poi della Buongiorno mi fido quanto di un bicchiere di acqua presa dal Tevere, cioè zero, per il semplice motivo che la Buongiorno io l'ho vista prima con Monti, poi che si è detta non a disposizione di Berlusconi, poi l'ho vista dopo Monti passare con Salvini, poi l'ho vista chiedere 460 mila assunzioni nella pubblica amministrazione, insomma la Buongiorno parliamoci chiaro, può dire tutto e il contrario di tutto, quello che a lei conta è il suo comprensibile successo a persona, a lei ne auguriamo molto. Ma Cerasa oggi a proposito della grillizzazione della Lega, in realtà il foglio mi attacca ormai come se fosse il peggior nemico di Giuliano Ferrara, ma questo non mi fa vero di un ragionamento che oggi fa Cerasa, secondo me interessante, quando lui dice che alla fine forse non è vero che Salvini è quello che sta cercando di dominare la situazione nella politica di questo governo, ma la sta subendo molto gli effetti, cioè la grillizzazione si vede dalla prescrizione che comunque lui ha dovuto subire, che è una bella bandierina che si possono mettere del 5 Stelle, dalla riforma delle intercettazioni, dal decreto dignità, che è una cagata chiaramente pazzesca, dal referendum a Roma, che vi ricordo domenica c'è il referendum a Roma per la liberalizzazione dei trasporti pubblici, si deve andare a votare sia la liberalizzazione, ma ovviamente la Lega fa lo gnorri aspettando di diventare lei, speriamo non la buongiorno il candidato dal suo cappello. E poi anche l'altra pazzesca vicenda che dice Cerasa è la finanziaria che vede tutto spostato praticamente sul reddito di cittadinanza. Questo per quanto riguarda la politica, direi che c'è un'altra questione che riguarda invece l'Europa, per la quale non va bene il nostro deficit, anzi loro lo considerano pari al 2,9% e non 2,4% quanto ha detto Tria. E Tria dice che non sanno fare i conti, l'ha definita una defiance tecnica, spunta però un condono sull'Imu e la Tasi, cioè anche le tasse sulla casa verrebbero condonate, e il vero dato fondamentale è quello che sottolinea il sole 24 ore, cioè che frena la crescita in Germania e di conseguenza l'Italia che è molto legata alla Germania per il suo apparato produttivo, se frena la Germania freniamo anche noi, non dobbiamo godere troppo dei danni tedeschi. Molto interessante due elementi, la prima è la battuta di Moscovici, le nostre previsioni sono oggettive, imparziali, dice l'ovvio secondo Repubblica Moscovici quando dice che le loro previsioni sono oggettive e imparziali, direi che siccome le previsioni oggettive e imparziali della Commissione europea non lo sono affatto e soprattutto Moscovici non ha nessuna di quella oggettività e imparzialità che uno si pretenderebbe da un commissario europeo perché tratta questo governo come se fosse anche quelli precedenti con il sussiego di un socialista francese, beh insomma io non direi come dice Repubblica che dice l'ovvio, no dice una parte politica ovviamente da parte sua, Moscovici in piena campagna elettorale, mentre la stampa oggi con Barbera ci spiega che il reddito di cittadinanza lo stanno rivedendo, forse parlano di un'estensione del REI, cioè il vecchio reddito di inclusione di renziana memoria. Divertente oggi il ritratto di Perna come sempre di boccia, il capo degli industriali che non ne azzecca mai una a partire dagli effetti macroeconomici del referendum bocciato di boccia di Renzi sulla Costituzione. Bellissimo oggi Italia Oggi che ci ricorda una cosa molto banale e cioè che Obama nel midterm che lo ha riguardato, quindi nel 2010, dice 2010-2012, nel midterm che l'ha riguardato, perse 63 seggi alla Camera, altro che quelli che ha perso Trump, però ovviamente con lui non si dice mai che perde, perché Obama ai nostri giornali piaceva moltissimo, non perdeva mai finché non ci siamo obbligati lo Steng qua, quando ci siamo accorti che non aveva vinto le elezioni ma a vincerle fu Trump, nonostante tutti quanti i pareri dei nostri giornalisti che vedevano sicura la vittoria della Clinton. Infine, quest'idea geniale del Movimento 5 Stelle, la divulgazione scientifica in TV deve avere un controllore, cioè una commissione fatta dalla RAI e dal Ministero dello Sviluppo Economico per controllare la TV, sottoposta quindi a una commissione, non Piero Angela, Freedom, il Giacobbo, i programmi di divulgazione scientifica, pensate un po' voi cosa vuol dire in mano al Movimento 5 Stelle la commissione, ma anche a un altro, anche a una persona per bene, cioè l'idea che ci sia una commissione che giudica il lavoro dei giornalisti e la divulgazione scientifica non è minculpop come dicono qualcuno, è la fattoria degli animali, è Orwell, cioè è la follia, è il togliere al nostro mestiere ogni responsabilità e ogni tipo di autonomia. Bene, François, vedo che ci segue sempre e la saluto, vi ricordo come sempre di condividere questa zuppa se vi piace e vi ricordo anche che oggi sui giornali, sul Sole 24 Ore, ne voglio parlare domani sul giornale, questa sentenza, le motivazioni di questa sentenza incredibile della Corte Costituzionale per la quale i licenziamenti col Jobs Act devono essere giudicati nel loro indennizzo dai giudici e non dalla legge, cioè la legge prevede due mesi di ogni anno di mensilità per un licenziamento illegittimo e il magistrato della Corte Costituzionale dice no, 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 questo lo decidiamo noi giudici, la facciamo noi a casa la decisione, non siete voi, insomma una roba veramente pazzesca. Un grande dato da chi ha ragione Silvia, facciamo nella commissione, mettiamo nella commissione alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, quelli che dicono che ci sono le scie chimiche, quelli che dicono che i vaccini fanno male, quelli che dicono che non siamo sbarcati sulla Luna, tutte persone che oggi hanno un ruolo di governo molto importante. Ciao!